A questa esperienza con me, prego. Allora, io brevissimamente, perché non sono abituato, ringrazio intanto il Presidente Sato per la fiducia accordata, mi chiede per me motivo di orgoglio, visto che io appunto per me nei suoi confronti ho una grandissima stima, sia come persona, come professionalista e come politico. Io, come ha detto giustamente il Presidente, ci sono delle pratiche importanti, in particolare modo relativamente a quello che sono le mie idee, le mie competenze, c'è da lavorare e io sono venuto qua per fare questo, perché poi non faccio politica, non l'ho mai fatta direttamente, per cui sono venuto qui per occuparmi di queste cose e quello che chiaramente posso garantire è l'impegno, i risultati, poi chiaramente vedremo se arriveranno, quindi ci vuole anche un po', come sempre nella vita, ci vuole anche un po' di fortuna, però da domani, ma già da oggi, perché la funzionaria mi ha già andato a studiare, perché è pratico, ho già cominciato prima un po' a leggerli, qua c'è la merita, mettersi lì con la testa bassa a lavorare, come si fa, non facciamo ognuno di noi, ma so che è un po' di realtà, altre cose, non ho la dire, se avete voi qualche curiosità.